Ben trovati su Stargate, vita da sinologi. Io sono Alessandra e oggi vi voglio raccontare della mia visita alla popolazione e minoranza etnica dei Mosu. Dopo la sigla! Mosuo, questo è il nome in Putonghua, cioè nel dialetto di Pechino, ovvero la lingua comune parlata in Cina. Ma nel dialetto locale si chiamano Mosu ed è così che li chiamerò per tutto il video. I Mosu sono una minoranza etnica situata sulla sponda Sichuan di Lukuleik. Lukuleik è un piccolo lago, una delle meraviglie naturalistiche, sita tra lo Yunnan e il Sichuan, a confine con il Tibet. Come sono arrivata a trovare i Mosu? Beh, mi sono persa, lo ammetto. Stavo trascorrendo una tranquilla settimana a Lijian, una delle città più meravigliose dello Yunnan, e cercando un'escursione naturalistica ho digitato su un sito cinese un alberghetto ai pressi di Lukuleik per poter trascorrere un fine settimana tranquillo tra cavalli e passeggiate. Ignara che il lago fosse sito tra due province? Beh, ho digitato la provincia sbagliata e sono finita nel Sichuan. Altrettanto ignara che in questa parte del lago si trovasse una minoranza etnica così minoranza etnica che non la potete trovare o cercare nemmeno nei libri sulle minoranze etniche. I Mosu si caratterizzano per il walking marriage. In realtà non esiste un vero e proprio termine in italiano o anche in cinese che possa aiutarci a tradurre questa parola. È una parola che è stata utilizzata dagli antropologi cinesi o meglio dagli antropologi inglesi alla fine dell'ottocento quando venendo in contatto con questa popolazione hanno sentito l'esigenza di definirne i costumi. Lo potremmo definire come matrimonio in cammino e in camminamento ma ora ve ne racconto le caratteristiche così forse potrete capire anche voi. Il walking marriage è una sorta di matrimonio della durata variabile a seconda della disponibilità dei partner, poligamico a favore della donna e addirittura poliamoroso, cioè entrambi i partner beneficiano di più relazioni contemporaneamente. Si tratta di un tipo di relazione di matrimonio che non prevede convivenza. Infatti gli incontri tra le coppie avvengono durante delle feste di paese prevalentemente estive, si tratta di feste in piazza nell'ambito delle quali i giovani che hanno raggiunto la maturità sessuale, si incontrano, si piacciono e costituiscono una coppia più o meno stabile a seconda della loro disponibilità e soprattutto a seconda del desiderio della donna. Sono relazioni che possono durare una vita intera o anche poche notti. Non è indicativo e non è specificato né specificabile. Questo tipo di matrimonio come vi dicevo non prevede convivenza ma soltanto la sosta notturna dello sposo presso la casa dello sposa, dello sposo prescelto perché la sposa in questo caso può beneficiare di più mariti contemporaneamente. Le case tradizionali Mosu infatti sono case a pianta quadrata con un grosso cortile centrale in cui vengono lavorati i prodotti agricoli tipici della zona e immediatamente entrando vi troverete sul lato opposto di fronte la stanza più importante della casa che è la stanza della nonna o comunque della donna più anziana della famiglia che detiene l'intero potere familiare. a lato sui due lati a fianco in ordine di importanza quindi in ordine di anzianità le case dei fiori ovvero le case delle figlie della donna più anziana della casa le quali progressivamente arriveranno a detenere il potere come vi dicevo per anzianità. Nelle stanze dei fiori sono ospitate oltre che la donna proprietaria di quella stanza occasionalmente il marito prescelto per quella notte e i figli più piccoli. Gli uomini invece che hanno raggiunto una certa maturità sessuale possono sostare in una stanza comune a loro dedicata vicino all'ingresso principale dedicata per le soste notturne di quegli uomini che non hanno ancora trovato una partner o che durante quella notte non possono beneficiare della compagnia della sposa perché è impegnata con qualcun altro. La religione locale è il buddismo ma non stiamo parlando del classico buddismo zen o del buddismo chan comunque quello più spirituale conosciuto in tutto il mondo stiamo parlando di buddismo tibetano quindi una corrente religiosa piuttosto spiritica con delle tradizioni piuttosto crude che intende la preghiera come preghiera concreta e in movimento infatti ovunque andrete troverete dei piccoli altari degli stupa attorno a cui le donne più anziane trascorrono la giornata girando in preghiera e delle piccole preghiere scritte in sanscrito quindi la lingua del buddismo indiano principalmente quindi di questa corrente a come dicevo piuttosto spiritica appese sui rami degli alberi o lungo le ringhiere o agli ingressi delle case altresì agli ingressi delle case troverete appeso più o meno grande a seconda dell'importanza sociale di quelle famiglie delle teste di vacca dei teschi riccamente decorati e dipinti con dei colori molto vivaci si tratta di tradizioni legate alla cultura dell'esorcismo quindi alla credenza in demoni e spiriti malvagi che possono infestare le case se non adeguatamente protette si tratta di una popolazione piuttosto schiva quando andrete a trovare Imosu se vi capiterà potrete tranquillamente passeggiare per le stradine dei piccoli villaggetti che incontrerete vi ricordo che siamo in aperta campagna in montagna non troverete zone di interesse né costruzioni all'occidentale infatti per la loro posizione questi popoli sono rimasti lungamente nascosti all'occidente e alla modernità e infatti potrete trovare una vita piuttosto anzi decisamente tradizionale io stessa sono stupita di come sono riuscita a procurarmi un albergo a dire il vero anche nella società il potere è interamente detenuto dalle donne le donne trascorrono la maggior parte del tempo le più anziane presso come vi dicevo i templi in preghiera o intorno agli stupa oppure nei cortili tradizionali a lavorare i prodotti agricoli se l'agricoltura è responsabilità prettamente femminile i lavori invece più pesanti e soprattutto quelli sporchevoli legati ai concetti di impurità sono responsabilità maschile le donne più giovani invece detengono ruoli di rappresentanza anche politica e sono poste alle dirigenze di piccole aziende locali in queste zone non troverete turisti tantomeno occidentali infatti nei villaggi presso cui sono stata ospitata penso di esserci stata io e qualche anno prima il tizio olandese di national geographic quindi tipo ero la prima occidentale che vedevano da un sacco di anni ho destato una certa curiosità e anche diverse proposte di matrimonio nel senso che gli abitanti locali erano piuttosto stupiti della nostra usanza legata alla monogamia e legata anche al fatto che sarebbe meglio nella nostra cultura avere un solo marito e una sola moglie possibilmente alla volta mentre per loro tutto questo non è assolutamente contemplato nelle loro vedute per cui mi è stato ripetutamente chiesto di vendere il marito che era con me in quel momento o di acquistare qualche marito da potermi portare con me nel mio viaggio e eventualmente da restituire alla fine insomma devo dire che è stato molto molto divertente gli abiti tradizionali della popolazione locale sono incredibili non è insolito trovare donne in abito tradizionale e uomini in abito tradizionale non si tratta di una questione turistica o di una questione di folklore ma si tratta delle vere e proprie abitudini locali che potrete incontrare se desidererete anche voi perdervi sulla sponda sbagliata del lago lupo si tratta di abiti estremamente comodi le calzature sono calzature basse gli abiti sono generalmente per quanto riguarda le donne delle gonne ampie non particolarmente strette in vita con delle fusiacche molto comode sul busto e per le donne che hanno raggiunto la maturità sessuale quindi per le donne sposate degli ampi turbanti posti sulla testa le stoffe sono piuttosto pesanti prevedono lino o cotone grezzi ma estremamente colorati e riccamente ricamati e decorati nonostante se ci troviamo in aperta campagna e in una zona di montagna vi assicuro che le donne sono molto belle e molto raffinate come vi dicevo la popolazione non si avvicina facilmente ma se come me parlate un buon cinese e magari cercherete di addentrarvi nei meandri del dialetto locale sarà più facile socializzare e magari anche farvi invitare a pranzo o avere un tè da qualcuno che sarà disposto a raccontarvi la sua storia e le sue abitudini per oggi ho concluso se questo video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale io vi do appuntamento alla prossima puntata a presto grazie a tutti grazie a tutti